con cui avvengono sono forieri di disastri annunciati da anni. Il territorio è compromesso dall'intervento dell'uomo volto a speculare piuttosto che a migliorare. Le opere per il deflusso dell'acqua, se studiate misure reprensibile, tengono conto di incidenze e parametri nonché dei coefficienti di riduzione non più adatti all'irruenza delle attuali precipitazioni. Un esempio drammatico e ormai inaccettabile è il caso di Pirri, per cui ad ogni precipitazione più o meno spinta scatta l'allarme per la nascita del torrente che scorre lungo il letto artificiale della strada canale. L'amministrazione deve varare un piano di emergenza e risolvere definitivamente questo disastro cui le amministrazioni precedenti hanno determinato. Per suo alla regione non può ignorare l'incisività di cui il clima è causa e quanto per inadeguatezza tecnica le amministrazioni locali sono responsabili in difetto e per dolo. Necessita un piano organico con cui poter far fronte alle devastazioni che il clima sta determinando a causa di un inusitato utilizzo dei combustibili fossi cui solo la cecità e l'ignoranza affetta da vizi speculativi non vede. I miliardi del PNRR potrebbero essere ben utilizzati con ricodute occupazionali e professionali non solo speculative come da sempre accade nel nostro paese e nella nostra regione.